I tempi non sono brevi, considerato che occorrerà procedere anche con modifiche legislative, ma l'impegno della Regione per la re-internalizzazione dei servizi di CUP, Back Office e Call Center c'è ed è stato uno dei punti all'ordine del giorno del Tavolo Permanente della Salute che si è riunito in mattinata. Nicoletta Veria, Assessora Regionale alla Sanità. La riunione di oggi del Tavolo Permanente verteva principalmente sulla re-internalizzazione del servizio CUP e più in generale di alcuni servizi che oggi sono esternalizzati dalle ALS. L'intenzione del Governo regionale, così come ho detto più volte in questi anni, è quello di ridurre al minimo il ricorso alle esternalizzazioni di servizi e quindi l'utilizzo di personale assunto con contratti interinali. Certo che per centrare questi obiettivi abbiamo accelerato le procedure di stabilizzazione del personale che aveva i requisiti previsti dalla normativa nazionale, ma soprattutto abbiamo valorizzato nei punteggi delle prove di concorso tutte le esperienze maturate in sanità dei dipendenti interinali oppure dalle cooperative esterne. Invece per quanto riguarda il CUP, proprio nell'emore di un ulteriore, di una nuova internalizzazione del servizio, che comporterà inevitabilmente tempi non brevi a causa della necessità di procedere anche a modifiche legislative, abbiamo garantito il massimo impegno da parte della Regione affinché nella nuova procedura di affidamento, che sarà di prossima pubblicazione, vengano tutelati tutti i lavoratori con l'eliminazione di tutte quelle differenze giuridiche retributive e anche di orario che purtroppo hanno caratterizzato le gestioni che si sono avute, che si sono susseguite finora. Invece per quanto riguarda la stabilizzazione proprio del personale sanitario? Sì, sempre al fine della stabilizzazione nelle alze è in corso la ricognizione di tutto il personale dell'uoro sanitario e socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati però reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, quindi tutte le selezioni avvenute fino al 30 giugno 22 e che sono in carico almeno sei mesi, dal 31 gennaio al 30 giugno, quindi tutti questi potranno rientrare in questa stabilizzazione secondo le previsioni della legge 234 del 2021, ossia la legge bilancio del 2022.